Il Castello di Limatola è tornato ad illuminarsi delle luci e dei colori del Natale. È stata inaugurata la 14esima edizione del Cadù al Castello alla presenza della famiglia Squeglia, proprietaria del Maniero e diatrice dell'evento, riconosciuto tra i mercatini di Natale più famosi d'Europa. Dopo il weekend inaugurale appena trascorso i mercatini del Castello di Limatola saranno attivi ininterrottamente dal 17 novembre al 10 dicembre 2023. Le novità nelle parole di Pina Martone Squeglia. Le novità di quest'anno sono le note di Natale perché appunto si è pensato che dalla musica nascono le emozioni ed è per questo che per ogni settore si è scelta una canzone diversa perché ogni canzone fa venire fuori un'emozione. Centinai sono stati visitatori fin dalla prima giornata accolti da un magico percorso di luminaria animato da danze medievali, artisti di strada, mestieri medievali, gastronomia e ovviamente il mercatino di Natale. Oltre 100 espositori propongono negli spazi interni ed esterni al castello prodotti ed eccellenze dell'artigianato, antiquariato, ceramica e gastronomia. Inoltre la grande baita di Babbo Natale quest'anno dà la possibilità a tutti i bambini di scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus. Un palcoscenico di festa dove le note di Natale e il tema scelto per questa edizione risuonano in ogni angolo del castello. Il nostro scopo è questo non solamente di far felici i bambini che sicuramente lo saranno ma anche gli adulti perché venendo qui forse un po' allontanano la quotidianità. Siamo tra i mercatini più belli d'Europa dicono e non ci crediamo perché l'affluenza è massima.